Sono Alessandro Galastro, direttore di Ramit S.P.A. Siamo l'italiano distributore e servizio partner per l'Oilquic. Quando si va a Germania, si vede che le persone sono già aware di questo sistema e anche in l'exhibizione, per esempio, in BAUMA, si vede a le demo, ma si vede già a quel tipo di sistema è. Qui è molto diverso, quindi dovete spiegare da zero. Sì, non sapevano che un sistema di solito e sovistico existente. Quindi dovete spiegare da zero. In alcuni casi sono molto sceptiche, ma in alcuni altri sono molto interessanti a sapere. Noi abbiamo un'eccelle demo area outside, con il CAT309, che è un'immagine di excavazione, ma è ancora più comparabile con il quale è il principale per l'Oilquic in l'excavazione. L'Oilquic request è venuto dal nord, da Germania, e ora è presentato in Trentino-Altoaggi-Gerasio, in Surtirol in particolare. E da qui sta spiegando all'interno del nord. Ora siamo in Verona, in questa exibizione, e in questo territorio in particolare abbiamo registrato un grande request. Da qui sta spiegando anche sul nord. Quindi, le ultime regioni che saranno sceglie da questa richiesta saranno probabilmente Puglia, Calabria, Sicilia, la very deep south. Per questo prenderà un tempo, ma per il resto, siamo registrati un grande richiesto, più e più più, durante i ultimi due anni. Tutto è molto ben provato per la qualità, perché l'Oilquic è il primo produttore del mondo, di questi cobblerci. E' da 1993 che sono in mercato, hanno venduto ancora più di 40.000 sistemi. Quindi, hanno avuto il tempo per sviluppare tutte le cose che sono necessari per rendere il sistema livello e leggero. L'Oilquic sono molto problemi di macchina, quindi, l'unica cosa che sono chiesto sono alcuni o-ringi, o alcuni cobblerci, che possono essere serviti molto rapidamente per il cliente, anche se non abbiamo in stock, perché può succedere. In Sveglia sono solo 48 ore, quindi è un servizio molto rapido.